Ogni aprile, un gruppo di scienziati osserva il debole bagliore degli asteroidi che passano vicino al nostro pianeta. Un anno si sono resi conto che c'era qualcosa di strano che luccicava nei loro telescopi. Il team si aspettava che fosse un altro asteroide, ma sono rimasti sorpresi perché quello che hanno scoperto era un'insolita roccia spaziale che non consisteva a dei minerali che di solito compongono gli asteroidi. Era fatta di silicato, il materiale che si trova maggiormente sulla Luna. Ciò fece supporre agli astronomi che potesse essere un pezzo che si era staccato dalla Luna. Lo chiamarono Kamu'alewa, una parola hawaiiana che significa oggetto celeste traballante. La roccia non corrispondeva a nessun asteroide con cui gli scienziati avevano familiarità. Invece aveva uno schema di luce riflessa simile a quello delle rocce lunari, che gli astronauti avevano portato dalle missioni della NASA. Il frammento si è rivelato essere un quasi satellite, un tipo di asteroide che orbita sia intorno al nostro pianeta che al Sole. Gira ripetutamente intorno alla Terra e ha un'inclinazione insolita. Per questo motivo si vede nel cielo notturno una volta all'anno. Il frammento è piuttosto timido. Non si avvicina a più di 14 milioni di chilometri. È quasi 40 volte più lontano della Luna. Inoltre, questo corpo spaziale si nasconde spesso nell'ombra. Gli scienziati hanno scoperto che non rimarrà nell'attuale orbita per molto tempo. Probabilmente è arrivato dove si trova ora circa 500 anni fa. E la sua orbita è destinata a cambiare nei prossimi 300 anni. Questo frammento potrebbe non essere il solo là fuori. Ci sono almeno altri tre oggetti simili alla Terra. E potrebbero provenire tutti dallo stesso posto. I ricercatori non sono ancora sicuri della natura della roccia. Per scoprirne di più dovrebbero inviare una navicella spaziale per raccogliere campioni e riportarli sulla Terra. Ed è qualcosa che l'Agenzia Spaziale Cinese ha intenzione di fare entro la fine del decennio. La Luna è apparsa dal caos. Ci sono diverse teorie su come sia successo. La prima afferma che la Luna era solo un corpo errante, simile a un asteroide che si è formato da qualche parte nel nostro sistema solare. E quando si è avvicinato troppo alla Terra, è stato catturato dalla nostra gravità. La seconda teoria dice che il nostro pianeta stava ruotando così velocemente che del materiale si è staccato e è iniziato a girarci intorno. Uno dei pezzi più grandi era la Luna. La terza teoria afferma che la Luna si è formata nel momento in cui il nostro pianeta stava attraversando il proprio processo di formazione. Ma oggi la teoria più accettata è questa. Una volta, tanto, tanto tempo fa, ma non in una galassia lontana, lontana, la Terra si è scontrata con un pianeta delle dimensioni di Marte. I detriti e le nuvole di polvere che si sono formate dalla collisione si sono raccolti intorno al nostro pianeta e l'hanno avvolto. Alla fine si è formata quella cosa che oggi conosciamo come Luna. Le missioni Apollo hanno portato più di un terzo di tonnellata di terra e roccia dalla superficie lunare. Queste rocce ci hanno dimostrato che la Luna è composta dagli stessi materiali del nostro pianeta. Ciò potrebbe significare che hanno un passato simile. Se la Luna si fosse formata da qualche altra parte e alla fine fosse stata catturata dalla forza gravitazionale del nostro pianeta, avrebbe una composizione diversa. Inoltre, se fosse nata contemporaneamente alla Terra o se ne fosse staccata, ci sarebbero gli stessi minerali sia sulla Luna che sulla Terra. Ma i minerali sulla Luna contengono meno acqua. Inoltre, il satellite naturale del nostro pianeta è ricco di materiali che si formano velocemente ad alte temperature. La Luna non è l'unico corpo spaziale del sistema solare con un misterioso passato. Ippocampo è stato scoperto nel 2013 ed è la Luna di Nettuno. È la luna più piccola di questo gigante di ghiaccio. Solo 34 chilometri di diametro. È molto vicino a Proteola, più grande delle lune interne di Nettuno. E no, Ippocampo non è un posto dove i grandi mammiferi africani possono trascorrere l'estate. Gli scienziati pensano che probabilmente Ippocampo si sia formato da detriti dopo che Proteo si è scontrato con una cometa. Se Ippocampo fosse entrato nell'orbita di Proteo o da qualche altro punto del nostro sistema solare, la Luna più grande l'avrebbe inghiottito o l'avrebbe cacciato. Ma nemmeno lo stesso Proteo è tra le prime generazioni di lune di Nettuno. Si è formato dai resti del primo sistema di lune del pianeta. Quelle prime lune furono distrutte quando Nettuno catturò Tritone, attualmente la più grande delle sue lune. La prova principale della collisione è il fatto che Tritone gira intorno a Nettuno al contrario, a differenza delle altre sue lune. Nettuno ha catturato Tritone dalla fascia di Kuiper. È un'area piena di oggetti ghiacciati e detriti rocciosi che si estende oltre Urano. E questo significa che Ippocampo è una luna di terza generazione. Un po' come un cugino di secondo grado. Anche il Sole ha avuto un passato turbolento. La nostra stella è apparsa circa 4,6 miliardi di anni fa. È difficile studiare le prime fasi della sua vita poiché si tratta di 50 milioni di anni prima della formazione del nostro pianeta. Ma recentemente un team di ricercatori ha scoperto dei cristalli che hanno più di 4,5 miliardi di anni. Nascosti nel profondo dei meteoriti, hanno rivelato alcune cose sul passato del Sole. Prima che i pianeti si formassero, il nostro sistema solare era costituito dalla stella centrale e da un enorme disco di polvere e gas caldo che vi ruotava intorno. Quando la polvere e i gas si sono raffreddati, si sono trasformati in minerali, compresi i cristalli trovati nei meteoriti che sono atterrati sul nostro pianeta. Quei materiali antichi erano irradiati, a differenza di alcune sostanze più giovani. I ricercatori pensano che qualcosa potrebbe essere successo al Sole dopo la formazione di questi cristalli. Forse allora l'attività della nostra stella era meno intensa, o forse, per qualche ragione, questi materiali più giovani non potevano viaggiare nelle aree in cui era possibile l'irradiazione. I pianeti nani ci danno la possibilità di dare una sbirciatina al passato del nostro sistema. Circa 4 miliardi di anni fa, le forze gravitazionali di Giove, Saturno e Nettuno si unirono. Inviarono asteroidi e comete a sfrecciare attraverso il sistema, facendoli scontrare con diversi pianeti. Tutti i pianeti nani della fascia di Kuiper, ad esempio Plutone, Eris, Aumea, Maki-Maki, hanno delle lune proprie che probabilmente si sono formate dopo potenti collisioni. I detriti ghiacciati in orbite simili a quella di Aumea, ad esempio, possono provare la teoria di un'antica collisione. I detriti che si sono formati non avevano abbastanza energia per allontanarsi dall'attrazione gravitazionale del pianeta nano. Sulla superficie di Cerere, un altro pianeta nano, è presente argilla ricca di ammoniaca. L'ammoniaca non è stabile su Cerere a causa dell'alta temperatura, ma ce n'è molta nel sistema solare esterno. Significa che Cerere si è probabilmente formato in una zona esterna ed è stato poi scaraventato all'interno. Dopotutto, nelle prime fasi del sistema solare, i giganti gassosi migravano molto. Oppure il pianeta nano si è formato in una cintura di asteroidi. E l'ammoniaca, in qualche modo, magari dopo un forte impatto, è apparsa sul pianeta. Cerere potrebbe aiutare gli scienziati a capire meglio le lune ghiacciate. Il fondale oceanico sulla Terra ha un'alta concentrazione di minerali carbonati e ce ne sono anche su Cerere. Ciò significa che questo pianeta nano è come una sorta di mondo oceanico fossilizzato. Anche molti esopianeti, un termine usato per i pianeti al di fuori del sistema solare, hanno subito collisioni piuttosto intense nelle loro fasi iniziali. Questo sistema a doppia stella è a più di 300 anni luce da noi. E queste stelle hanno almeno un miliardo di anni. Anche se non è giovanissimo, questo sistema mostra ancora alcuni segni di nuvole vorticose e di detriti polverosi che non si sono ancora raffreddati. Non una cosa che ti aspetteresti da un sistema stellare di quest'epoca. Questi detriti sono ancora caldi. E questo significa che potrebbe esserci stata una forte collisione di due pianeti o altri corpi spaziali di dimensioni simili in tempi relativamente recenti. Ehi, calmatevi tutti. Le particelle di polvere circondano una giovane stella, si uniscono e con il tempo crescono. È così che si formano i pianeti. La polvere residua si deposita spesso in alcune zone lontane e fredde. Un esempio nel nostro sistema solare è la fascia di Kuiper. Si trova lontano, oltre Nettuno. Man mano che i sistemi solari si evolvono, queste particelle continuano a scontrarsi finché non sono così piccole da essere trascinate nelle stelle vicine o espulse dal sistema. In confronto agli altri pianeti del nostro sistema, Urano gira su un lato. L'unico modo in cui possiamo spiegarlo è una potente collisione nel passato. Qualcosa di molto più grande di una cometa o di qualche altro corpo spaziale di dimensioni simili probabilmente ha colpito Urano e lo ha fatto inclinare. Forse un pianeta grande il doppio della Terra. Magari un protopianeta, ovvero un corpo spaziale composto principalmente da ghiaccio e roccia che orbita intorno a una stella e che probabilmente, in futuro, potrebbe trasformarsi in un pianeta. Ad ogni modo l'impatto ha soffocato il nucleo di Urano impedendo al calore all'interno del pianeta di fuoriuscire. Ciò potrebbe spiegare perché la superficie di Urano è così fredda. Ehi, porta un cappotto e una coperta.